Sono cinque anni e ho avuto prima una protesi completa al ginocchio che si è rotta e poi me l'hanno rimessa. Io abito al primo piano rialzato e ogni tanto scendo con le stambelle, ma adesso è peggiorato perché col COVID non ho potuto fare la fisioterapia, è tutto chiuso, dovevi fare la piscina, e niente, per scendere ho le stambelle. Poi il deambulatore mi sono dovuta fare perché mi stanco, il dolore è forte, ce l'ho nel garage e ogni tanto esco, perché io non ce la faccio, sta chiusa sempre dentro. La parazzina mia, solo tre signore stanno sopra perché non sono potuta scendere. Noi facemmo questa domanda 15 anni fa, perché a fianco a me la signora è morta, stava proprio sulla sedia a rotelle, e quindi stiamo aspettando, non ho più l'avventura. A raccontare la storia infinita dell'attesa di un ascensore ai civici 40, 42 e 44 delle case Gescal di via Valle San Mauro a Pescara è la signora Amelina La Sorsa, un inquilina degli appartamenti Ater in questione con problemi di deambulazione. Come lei, tanti altri anziani e disabili segregati in casa per l'assenza di un ascensore atteso da anni. Una storia infinita, appunto, che Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale, riassume così al nostro microfono. Allora, qui abbiamo iniziato la battaglia diversi anni fa. Sono tre palazzine, case Gescal popolari, proprietà di Regione Abruzzo, senza ascensore. Il civico 40, 42 e 44. E sono proprio quelle abitazioni dove ci sono malati gravissimi, disabili, anziani, che non possono scendere più di casa da tanti anni, sono segregati in casa. Quindi la situazione è gravissima. Noi, io sono riuscito a vincere un pezzettino di questa battaglia, perché al bilancio di previsione del 2021 ho fatto stanziare 150 mila euro da Regione Abruzzo. Quindi i soldi ci sono. L'Ater ha fatto il progetto, quindi è tutto pronto. Si è intoppato tutto al trasferimento, cioè le somme non vengono trasferite dalla Regione all'Ater. Chiediamo al Presidente di Regione, l'assessore regionale al bilancio Liris, di sollecitare la Regione, i loro uffici, a fare questo benetto trasferimento. Perché si sta parlando di riprogrammazione ai fondi europei, perché sono soldi che vengono dai fondi europei. La riprogrammazione si fa in un'ora. Non dobbiamo aspettare mesi, mesi e mesi e mesi per la riprogrammazione delle risorse europee. Perché la gente qui non ce la fa più. La gente è gravemente malata. E l'Ater può iniziare immediatamente a installare questi tre ascensori. L'assurdo poi, mi si lascia dire, che i palazzi prima e i palazzi dopo di questi tre civici hanno l'ascensore installato già 15 anni fa. Non si è capito perché hanno fatto figli e figliastri una disparità di trattamento e hanno tenuto fuori proprio queste persone che hanno gravi parodologie e grave disabilità.